Comandante Torrens, mi dica pure... Estradiamo un latitante. È pericoloso? Che reato ha commesso? Omicidio, 15 anni fa. Non voglio spaventare i passeggeri. Non ha altra scelta. Accoglieteli a bordo, voglio un volo tranquillo. Passeremo proprio sopra la tempesta. Tieni tutti al loro posto, nessuna eccezione, chiaro? Dovete avere tutte le cinture di sicurezza allacciate. Mayday, Mayday, Mayday. Trailblazer 119, siamo rimasti al buio. Mi vince bene. Ci schianteremo, ci schianteremo. Sono precipitati da qualche parte sull'isola di Holou. È governata da milizie separatiste, neanche l'esercito filippino ci va più. Il tempo scorre. Ogni minuto è importante. Possiamo contare quei minuti in vite perse o salvate. Aiutate! Aspettate, tornate indietro. Non sappiamo chi sono indietro. Ascoltami bene. Questa è un'emergenza. Sono il comandante Brody Torrance. Questo tizio è forte. Nome! Nazione! Maxwell Gerber, Inghilterra. Nome! Nazione! Devo andare a cercarli. Sono i miei passeggeri. Ne sono responsabile. Mi servirà il tuo aiuto. Ti servirà questo? Sei un ex militare? Diciamo di sì. Perché sei finito in galera? Non è importante. Ma dicono che la redenzione puoi trovarla nei luoghi più insoliti. Se lo fai, probabilmente non vedrai più la tua famiglia. E le loro famiglie, invece? Ho una figlia. Ho tutte le intenzioni di tornare a casa. Ci attaccheranno con tutto quello che hanno. Ce ne andremo da quest'isola. Ci attaccheranno con tutto quello che hanno.